Invertiamo, siamo già d'accordo con i due relatori, invertiamo l'ordine dei prossimi due relatori e quindi tocca a Dottor Piero Tanasio che porterà la voce della principale associazione categoria del settore editoriale, quindi diciamo assolutamente in coda, logicamente collegato all'intervento precedente, quindi lui per AIE, per associazione italiana editori, attualmente è responsabile dell'ufficio rapporti istituzionali e legislativi, nonché responsabile dell'area ricerca e sviluppo e dell'area progetti europei. Il suo titolo, in teoria pensato per essere l'intervento finale, è Conclusioni da non giuristi, l'associazione italiana editore si confronta, quindi comunque sono delle conclusioni, ricordiamoci che poi c'è ancora l'intervento di Rossana Ducato che aggiungerà un pezzo molto importante che è quello del test in data mining. Prego. Sì, mi dispiace di dover fare questo passaggio, purtroppo ho un treno, poi il successivo mi porterebbe davvero a mezzanotte a casa su un interregionale, quindi era un po' troppo. Ringrazio comunque molto la professoressa Federica per questo invito e anche per la responsabilità che mi ha dato delle conclusioni, che è sempre una responsabilità complicata. Io non ho preparato delle slide, proprio perché volevo rispondere esattamente alla richiesta di provare a trarre delle conclusioni, che non è facile, poi man mano ho preso un sacco di appunti mentre gli altri relatori parlavano. Non è facile, ma ci provo lo stesso. Nel titolo è detto, sono un non giurista, però vorrei anche dire che cosa sono, sono un economista, un economista che si è occupato molto di tecnologie. Sì, ho scoperto che il professor Ricolfi mi conosceva come tecnologo, questo che io non sono, ma mi sono un tanto occupato di tecnologie, negli ultimi vent'anni direi, almeno. E ovviamente sono di parte, io lavoro per l'associazione italiana di editori, cugino di Galimberti, cioè siamo editori di libri, non sono della FIEG, che è la rappresentanza invece degli editori di giornali. Allora, volevo dire qualche cosa che mi ha stimolato la presentazione, in particolare in primis del professor Ricolfi. Una piccola parentesi, e poi vado più sulla sostanza di altri aspetti, una piccola parentesi sull'articolo 6 che aveva citato, che è quello sull'eccezione a favore delle biblioteche, che effettivamente questo incrocio di eccezioni può destare delle problematiche. Può destare delle problematiche anche perché poi lasciando un po' di vago nelle interpretazioni non è mai una cosa, per gli operatori non è mai una cosa molto piacevole, perché poi si possono avere interpretazioni diverse, bisogna andare davanti ai giudici, pagare agli avvocati, capisco se sono molti avvocati magari che invece questa cosa amano, però dalla parte degli operatori invece questo è meno gradito. Peraltro c'era da diversi anni un accordo tra l'associazione italiana di editori e l'associazione italiana di biblioteche che proprio voleva regolare questo aspetto, ancora prima di questa direttiva, perché l'Italia non aveva attuato per intero alcune eccezioni che è prevista invece della direttiva del 2001 che consente di regolare meglio questo aspetto. Noi avevamo trovato un accordo su queste cose, non sto a dirvi nei dettagli contenuti purtroppo, però non è mai troppo tardi, come dire, è una delle prime delle sfide che dobbiamo avere, però parliamo invece di altri aspetti che attengono più direttamente dalle tecnologie. Ho trovato molto precisa la ricostruzione del professor Ricolfi quando parlava degli interessi in gioco, e anche quando nella catena autori, creatori, industria, utilizzatori, si era poi soffermato su quella che è la novità degli ultimi anni, quella che ha poi diviso l'industria, l'industria mentre prima era l'unica cosa, un'unica tipologia, con interessi convergenti poi non lo è più. Allora, qual è la ragione ultima, vorrei aggiungere due parole, sulla ragione ultima di questa novità, cioè che non è né la digitalizzazione di per sé, né internet di per sé, ma è appunto il tema di una economia fondata sui dati, come si è molto ben illustrato il professor Mazziotti, cioè il Jean Tirole, che è un premio Nobel dell'economia che ha fatto analisi di queste cose da un po', parlava tradizionalmente, già c'erano degli iscritti di Picara addirittura degli anni Sessanta, e parlava tradizionalmente di economia, di mercati, two side market, insomma con due facce, che erano la vendita dei contenuti e la pubblicità. Finché però erano questi, c'era una coerenza ancora, cioè il produttore di giornali e l'editore di giornali e l'edicola avevano lo stesso interesse a vendere il giornale, il libraio e l'editore lo stesso, ma anche il broadcaster che dava gratis l'accesso ai contenuti, e quindi non è il gratuito di per sé che modifica questo aspetto, aveva lo stesso interesse, perché erano tutte economie basate sull'esclusività dei contenuti. Però il tema non è un'esclusività contro una non esclusività, e il dibattito attuale è fra due esclusività, anche questo ben illustrate dal professor Mazziotti, cioè l'esclusività sui contenuti contro l'esclusività, vorrei dire, sulle relazioni sociali che sono generate dalle piattaforme, perché c'è quegli aspetti che sono stati pure evidenziati di effetti di rete e tendenza di tipo monopolistico sulle cose. Per cui è questa la ragione per cui è entrato in crisi questo sistema. Come ha reagito questa direttiva? Ha reagito, io ho partecipato, io lavoro su questa cosa della direttiva, all'epoca non ero responsabile di tutti i rapporti istituzionali, ma solo di quelli europei, e quindi sono stato impegnato sulla direttiva quando da economista guidavo un gruppo di lavoro della Federazione Europea degli Editori, quando c'era da fare gli studi di impatto della direttiva, quindi parliamo di sette anni fa, quindi dopo sette anni qualche cosa ho imparato. Allora, e ho seguito ogni singolo passaggio ovviamente da allora. E la direttiva è ovviamente frutta di compromessi, frutta di compromessi, di dibattiti a volte feroci, che delle volte sono dei buoni compromessi, delle volte sono delle accozzaglie, questo capita quasi sempre, perché poi, come dire, i sistemi democratici di fronte al digitale sono imperfetti, ma preferiamo tenerci dei sistemi democratici, comunque sia il livello di imperfezione che hanno. Allora, qual è il tema vero di questa vicenda, al di là del molto dibattito che è stato fatto? È un tema, è il tema della responsabilità. Allora, il bello della parola responsabilità italiana è che significa sia responsabilità sociale che responsabilità legale. In inglese si chiamano responsibility e liability, sono due cose diverse. E forse anche per questa questione linguistica, delle volte finiscono per non coincidere, però è la responsabilità sociale delle piattaforme che era il vero punto nodale, alla quale non seguiva una responsabilità legale. Ma questo era per un buco normativo creato dalla direttiva commerciale elettronica, non ci trava niente né con i principi generali del diritto d'autore, né con, che si è detto per inciso, io parlo sempre di diritto d'autore, mai di copyright, nemmeno per il sbaglio, perché il diritto d'autore non ha a che fare con le copie, ha a che fare con gli autori. E questo è una, poi tra l'altro ci sono anche bellissimi giochi di parole che si possono fare, or those fight in inglese può significare con il genitivo sasso nel diritto d'autore, ma anche l'autore ha ragione, che è una bellissima, un bellissimo gioco. Quindi, dicevo, c'è un tema di responsabilità, c'è un tema di responsabilità sociale legata a una, a fianco della quale si cercava di avere una responsabilità legale. Tutto il resto è una conseguenza, cioè è esplicito, è vero, già dal memorandum di illustrazione della Commissione Europea, la finalità, se così dire, pro-competitiva della direttiva, cioè lo stesso fatto che si parla di value gap, che si parla, se leggete l'introduzione all'articolo 15, all'articolo che riguarda i giornali, seguiva esattamente il discorso di Galimberti, proprio proponendo il diritto d'autore come strumento per regolare il mercato, per aumentare il livello di concorrenza nel mercato, che è una cosa rispetto alle origini del diritto d'autore rivoluzionaria, perché il diritto d'autore, proprio perché fornisce esclusive, fornisce delle occasioni di monopolio su singolo contenuto, però ci insegna la storia dell'economia già dal primo dopo guerra, che esistono i mercati cosiddetti di concorrenza monopolistica, tipicamente questo è uno, dove l'esclusività su una molteplicità di contenuti, però in concorrenza tra di loro può essere, o di beni, può essere una delle modalità, anzi è forse la modalità più frequente nei mercati moderni, per garantire la concorrenza. Allora, tutto questo poi però aveva delle problematiche, che sono delle problematiche tecnologiche, sono state giocate, io ho partecipato, lo dico senza vergogna di questa parola, che sono in Italia e ha connotazioni negative, ho partecipato da lobbista a questo ragionamento, con lobby molto più potente delle nostre, proprio perché la quantità di guattrini in gioco, si calcola che i Gaffa, come vengono chiamati dai francesi, cioè Google, Apple, Facebook e Amazon, io li chiamo Lady Gaffa, che mi piace il mio, perché mi lo trovo più divertente, hanno investito diverse centinaia di milioni in lobby, ma a Bruxelles per questa direttiva, noi andavo io con una mia collega giovane, quando riuscivo a pagarmi l'aereo, a parlare con la gente, questo era il confronto, e così come altri miei colleghi, soprattutto delle associazioni dei paesi più grandi d'Europa. Quindi, c'è stata una informazione sulle tecnologie piuttosto parziale, in particolare nel dibattito fortissimo che c'è stato sui filtri. I filtri automatici venivano presi come esempio per cui non si poteva fare questa direttiva perché avrebbe limitato la libertà di espressione. Il problema è che però non si legava a questo ragionamento, che è un ragionamento tecnico, agli aspetti più economici. Allora, i filtri automatici, io ho lavorato su queste cose, si possono fare di due tipi, non c'è bisogno di mettere una soglia per cui una cosa o è sì o è no. Si può mettere una soglia intermedia e poi si chiede a una persona di controllare se è sì o no che deve andare in rete. Questa cosa è assolutamente fattibile e comporta un aumento dei costi dei caffè. Allora, l'aumento dei costi delle piattaforme è quello che volevano questi evitare, sostanzialmente. Adesso, siccome poi, come è stato detto, qua non pagano le tasse, avrebbero dovuto, siccome poi soprattutto in ambito testuale, che è quello che a noi interessa, avrebbero dovuto assumere anche delle persone che conoscevano la lingua, quindi dovevano avere anche degli impiegati italiani, tutto sommato, avere meno profitti di questi, un po' più di lavoratori in Italia, a me non sembrava un obiettivo così disdicevole. Però è stato un tema che non è stato particolarmente toccato. Cioè, il fatto che questi sistemi di intelligenza artificiale possono essere calibrati con un successivo intervento umano quando ci sono dei dubbi. E allora, questo aspetto, questo aspetto è un aspetto cruciale che non è stato portato proprio per una difficoltà, ma non in italiana, questa è una difficoltà veramente nel dibattito internazionale che dipende dalle simmetrie informative sui mercati. Adesso, nel nostro mondo dei contenuti, gente che ha seguito l'evoluzione tecnologica di queste cose, non siamo in tantissime, io un pochetto sì, però non sono sicuramente un grande esperto, però questa simmetria informativa è un tema particolarmente importante. Ci apre a sfide da raccogliere, come era sfide da raccogliere nel titolo, che sono sfide sulle tecnologie. Sono sfide su un misto di tecnologie normative. sempre, Jean Tirole scrive un articolo all'inizio del 19, bellissimo, divulgativo neanche di questi complicati da legge, si chiama Regulating the Destructors, cioè che spiega come nessuna politica oggi può essere singolarmente presa, efficace per modificare questo quadro. Cioè non basta le norme sul diritto d'autore per modificare, ho paura, scusa se vado, non bastano le... C'è bisogno, dice Tirole, di politiche che riguardino quattro aspetti che lui cita. Uno è ovviamente le politiche pro concorrenza, le politiche della concorrenza. L'altro è le politiche sui dati, il GDPR, eccetera. Il terzo è la politica fiscale per le ragioni note. La quarta è le politiche del lavoro, sul caso Amazon è particolarmente delicato proprio su questi aspetti. In realtà la politica del diritto d'autore è andata esplicitamente in questa discussione. Personalmente ritengo che la politica, ed è questo un ruolo precipuo dell'Europa, a mio avviso, che però può essere declinato anche a livello di Stati membri, alcuni Stati stanno investendo su questo, la politica è quella anche dell'innovazione, che è molto importante, cioè sostenere l'innovazione in questi ambiti. In quali ambiti? Allora, la direttiva, dal punto di vista tecnologico, se uno è una legge dal punto di vista tecnologico, propone un tema, che è il tema dei dati sui diritti, che è molto evidente in almeno 5 articoli. Quello che riguarda l'eccezione educativa, che dice che le licenze devono essere però visibili, in Italia è stata inserita anche la possibilità che la licenza possa prevalere sulla eccezione, ma devono essere visibili. Significa che ci devono essere delle informazioni, devono essere ben gestiti i dati, le informazioni sui diritti. Quello sulle opere fuori commercio, che prevede un meccanismo di gestione di informazioni piuttosto complesso, che non sarà facilissimo da implementare. Io mi sono particolarmente occupato ai tempi delle opere orfane, di sviluppare tecnologie su questi aspetti. Quando l'abbiamo finito di sviluppare, abbiamo proprio detto, chiaramente, questo servono tanto per le fuori commercio, ma molto meno per le opere orfane, per una serie di ragioni che non si disto a dire. Noi abbiamo fatto le tecnologie della Biblioteca Nacional de France quando hanno fatto il loro progetto Relief, che era un progetto sulle opere fuori commercio. La stessa norma sulle standing collecting licenses prevede problematiche di gestione. Sembra che nell'ultima bozza ci sia un articolo. Se quello che ho letto è scritto malissimo, però questo è un altro discorso. Però ho visto che c'è un tentativo di introdurre le standing collecting licenses in Italia. Bisognerà però una... Sì, appunto, è una delle ragioni perché ho scritto malissimo, ma è scritto male anche su altri paesi. Esatto, sono convinto che io. Era tra i motivi che rassumevano il malissimo. Però è un'altra delle sfide da raccogliere, quella delle licenze collettive stese. Io sono particolarmente convinto. Sul Tdm, mi dispiace di parlare prima dell'altra relatrice, perché c'è la parte di possibilità di riservare i diritti da parte degli autori che deve essere fatta attraverso dei... anche e probabilmente in maniera prevalente attraverso dei meccanismi machine readable, dice la direttiva. Quindi, con uso delle tecnologie. In questo momento c'è un gruppo W3C, cioè dell'Organismo di Governanza di Internet, è un gruppo di lavoro che sta definendo dei protocolli su questo. Gruppo, peraltro, la cui co-chair è la mia collega Giulia Marangoni, per dire che ogni stando in italiano è qualcosa di buono, siamo capaci di farlo a livello internazionale, e che sta stabilendo dei protocolli per far sì che sia semplice per chiunque, con poche righe di... con un piccolo script nelle proprie pagine, comunicare dei diritti. E quindi riservarsi i diritti. Su questo aspetto della riserva dei diritti nel TDM, viene sempre visto pensando ai grandi editori che si riservano i diritti, limitano i sviluppi, eccetera. In realtà è una delle problematiche che può mettere in gioco alcuni aspetti della gestione dei dati, perché quando io, i prosumers, cioè coloro i quali fanno, diciamo, quelli che autenticamente fanno user genetic content, mi è piaciuta la distinzione, però qui sto parlando di chi è autenticamente un creatore di contenuti, sono in primis autori a quel punto. Però da queste norme rischiano di non essere per niente tutelati proprio per questa ragione. Ci sono delle problematiche di obbligare le piattaforme a non legare la concessione del loro sfruttamento dei dati alla frizione del servizio, per esempio, e cose di questo tipo. Infine, i dati, effettivamente, la vera sfida, la vera sfida che già si sta giocando sul DMA, perché ci sono alcuni articoli noti con una terribile espressione know your business customer, qualcosa di questo genere, che dicono che le piattaforme devono passare alle aziende per cui fanno marketplace e delle informazioni, però ancora limitate. Io credo che questo è la vera sfida per il futuro, credo che ci sia spazio quando si discuterà di intelligenza artificiale anche al Parlamento europeo all'inizio del prossimo anno per fare delle buone cose. Probabilmente, io sto cercando di organizzare un seminario per i parlamentari europei proprio per la difficoltà del tema. Cioè, un professore italiano è eccezionale che è un informatico che si sta occupando per anzi un fisico di origine, ma poi che sono i filosofi della scena. E poi oggi un informatico che si occupa di intelligenza artificiale si chiama Nello Cristianini, vi consiglio di leggere le cose che sta scrivendo, lui lavora a Bristol, e ha un ICR, un European Research Council Project, su questi temi. Davvero questa dell'intelligenza artificiale, dell'economia dei dati, della politica di concorrenza che tengano conto di quello che è diventato oramai un free-size market, cioè non più solo vendita di contenuti e vendita di pubblicità, ma soprattutto vendita di dati, vendita di dati attraverso le profilazioni. Questi free-size market devono trovare nuove forme di regolazione. Adesso siamo ancora all'inizio, abbiamo davvero tante, tante, tante sfide ancora da raccogliere. Grazie. Grazie.